Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Vermiglio di Maura del Pero è uno di quei film che ti ricorda perché esiste il cinema. Ma soprattutto ti ricorda che il cinema italiano non è fatto solo dai figli di Castellitto, ma anche da autori che hanno l'urgenza di raccontare una storia, con lo spessore e il meraviglioso talento di riuscire a raccontarla attraverso attese, silenzi e piccoli gesti. Emozioniamoci insieme dopo la sigla. Vermiglio è una di quelle esperienze cinematografiche che non ti aspetti. È una poesia, è una carezza che profuma di nonna davanti al caminetto dopo una settimana pesante. È il racconto di una vita che, per la maggior parte di noi, immagino, sembra inventata, che oggi non sembra possibile. Una vita di silenzio, scandita dalle stagioni, senza tecnologia. Una vita dove il poco doveva necessariamente diventare il tutto ciò di cui si aveva bisogno. Una vita di acqua e fuoco, di segreti e penitenze. Una vita di perdite e di venute al mondo, in un equilibrio pari solo a quello della natura stessa. Vermiglio, nome del paesino di montagna in cui è ambientato il film, è la storia della famiglia Grazia Dei. Una famiglia molto numerosa, dieci figli, di cui due purtroppo deceduti che erano ancora in fasce. Il capofamiglia è il maestro del paesino di Vermiglio. L'impersonificazione della cultura e del giudizio che arriva dall'alto. Nella scuola di Vermiglio o si eccelle o si diventa serve o manovali. Il maestro Grazia Dei dice ai suoi allunni, e quindi anche ai suoi figli, che la scuola serve a scoprire i propri limiti per adeguarsi ad essi, e quindi vivere di conseguenza. Senza l'ansia di doverli superare, di dover dimostrare al mondo di essere di più di quello che si è, e di vivere una vita serena anche da massaia o da contadino. La grande guerra sta per finire, e a Vermiglio tornano due soldati che sono scappati, due disertori. Sono taciturni, silenziosi, evidentemente traumatizzati dall'esperienza che hanno vissuto. E il paese si divide attorno a questi due sopravvissuti. C'è chi li vorrebbe denunciare perché non si scappa dalla guerra, non sei uomo se scappi dalla guerra. Chi invece, come i Grazia Dei, da loro conforto e ospitalità. La storia di Vermiglio si dipana attraverso le personalità e le esperienze di quattro figli della famiglia Grazia Dei. C'è Dino, il maschio ormai grande, che il padre vorrebbe a tutti i costi alla sua altezza. Istruito, interessato al mondo. Invece Dino è più interessato al vino, alle dinamiche del paesello, e forse proprio perché costantemente sfidato dal padre, decide di sconfiggerlo, diventando il suo esatto opposto. C'è Lucia, la figlia più grande, che si innamora di uno dei soldati che si nasconde a Vermiglio e che alla fine verrà chiamata ad un'enorme prova di maturità e forza d'animo. Poi c'è Ada, che vive nella contraddizione, intrappolata tra i suoi primi desideri sessuali e i dettami religiosi a cui è devotissima, che la fanno sentire in colpa, praticamente per ogni gesto, spingendola a sperimentare delle penitenze che sono quasi esilaranti da quanto sono esagerate. E poi c'è Flavia, la metafora del futuro, del nuovo che arriverà, l'unica figlia femmina della famiglia Grazia Dei a cui viene concesso di continuare a studiare a Trento. Vermiglio è un film che racconta una storia di una potenza narrativa impressionante, in pochissime mosse. Se la narrativa cinematografica fosse una partita a scacchi, direi che Vermiglio riesce a fare scacco matto in 3-4 mosse al massimo. Il punto di vista è sempre fermo, sempre sugli ambienti e sui personaggi che si muovono all'interno di questi ambienti. Gli attori, tutti sconosciuti e quasi tutti al loro primo film, sono spontanei, sono puri, sono credibili. Non c'è bisogno di tante parole o di eventi incredibili che ti fanno svoltare il film. È tutto comprensibile attraverso la lettura degli sguardi, dei sospiri, della gravità dei gesti, l'importanza del tutto. Guardando Vermiglio ho ripensato a tutti i film di cui ho parlato in questo canale. Film con sovrastrutture, con spiegoni, film che sovraccaricano i propri temi con altri temi per riempire, per essere più di quello che sono in realtà. E ho visualizzato il film come se fosse un corpo umano. E se ad un corpo togliamo tutto, la pelle, la carne, le ossa, cosa rimane? Beh, rimane l'anima. Che ci crediate o no, rimane l'anima. Rimane il senso di quel corpo, il senso, il significato di quella persona. E Vermiglio, cinematograficamente parlando, è esattamente questo, è anima. C'è un grande tema che attraversa tutto il film. Ed è il tema di come il mondo, non solo quello raccontato nel film, ma anche il mondo di oggi, sia strutturato su regole fatte da uomini, ma che poi sono le donne a dare equilibrio a tutto. Perché sono gli uomini stessi i primi a non riuscire a rispettare le loro stesse regole. E la guerra è la più grande metafora di questo tema. La guerra è la reazione che hanno gli uomini ad una regola infranta. La violenza, la prevaricazione, il comando io. Ma poi questi stessi uomini dalla guerra tornano spezzati, tornano inutili. E chi in guerra non ci va, rimane e impone regole di rettitudine, di fedeltà, che comunque non riesce a rispettare. E allora tocca alle donne muoversi in un mondo di regole naturale, di figli dati al mondo o di figli seppelliti troppo presto. Di sacrifici per rimediare alle regole infrante dagli uomini. E tutta questa tematica nel film è sviluppata e portata avanti senza neanche un cenno di provocazione o superbia femminista. Ma con la delicatezza delle cose che semplicemente devono andare così. Guardare Vermiglio è un'esperienza che vi consiglio di cuore. E se credete che quella vita non esista più vi consiglio se già non lo fate di guardare i video dei The Pillows. Vi metto il link in descrizione del loro canale su YouTube. Sono dei ragazzi che vanno a cercare delle persone che vivono ancora in questa lentezza, in questa meravigliosa lentezza. Rallentiamo, spegniamo tutto, ascoltiamo l'acqua e il fuoco raccontarci la storia del mondo. Seguiamo la prima grande regola della vita cioè vivere. Vermiglio televisione consigliatissima lo trovate al cinema ed è un film che non abbinerò ad una specifica birra ma che abbinerò alla tradizione birraia italiana che è molto più antica e molto più complessa di quella che vi racconta l'industria mainstream. L'Italia ha un'enorme cultura e tradizione birraia. Sin dalla metà del 1800 si produce birra in Italia sulla spinta delle ricche famiglie austriache trasferitesi nel nostro paese. Spluggen a Chiavenna Wührer a Brescia Pfanner a Lucca ogni grande città italiana aveva la sua birra. C'era la birra Milano c'era la birra Mezger di Torino la birra Raffo a Taranto questa storia di grande tradizione è stata interrotta dal partito fascista che per difendere l'italico vino iniziò a danneggiare la produzione birraia considerata poco italiana con dazi molto alti e con l'obbligo di usare nella produzione della birra prodotti nazionali come il mais e il riso. Se avevate bisogno di altri elementi per considerare i fascisti delle teste di cazzo è come un ennesimo. Purtroppo tutto questo ha creato una mala educazione in Italia nei confronti della birra e questo è successo anche in altri campi nel cinema nella letteratura nel teatro grandi storie di enormi talenti e immense tradizioni interrotte da fattori di convenienza siamo meglio di come vogliono ridurci e bere una buona birra fatta bene e guardare un film come Vermiglio ci aiuta a ricordarcelo e dalla versione di Barley Tutto buona visione di cuore buona bevuta e non fermatevi alla prima o a Grazie a tutti.